I play-off scudetto della serie a femminile prendono il via per Indeco, Conversano, Iomi, Salerno, Cassano, Magnago e Ariosto, Ferrara e tempo di semifinali. Si comincia sabato con gara 1 per una serie che prevede il passaggio del turno dopo aver avuto la meglio sulla distanza dei tre incontri. A decidere il calendario e il tabellone delle semifinali è stata la classifica della pool play-off andata in archivio nel fine settimana scorso. E così le campionesse d'Italia del Conversano affronteranno Ferrara con la prima sfida il 23 aprile in terra emiliana e il ritorno la settimana successiva alla Pala San Giacomo. Nell'altra semifinale invece la Iomi Salerno è ospite in gara 1 in calendario per il 24 aprile del Cassano Magnago alla palatacca. Per entrambe le semifinali la serie prevede gara 2 ed eventuale gara 3 consecutivamente in casa della migliore classificata nella pool. Stesso meccanismo poi in finale scudetto col calendario che verrà comunque composto al termine delle semifinali. La corsa al titolo italiano e al rush finale dunque per Ferrara saranno play-off dalla sapore storico. Per Cassano Magnago una nuova occasione dopo le finali scudetto e di Coppa Italia perse a maggio e a febbraio scorsi. Salerno e Conversano mettono in campo 5 titoli italiani in 2 con le pugliesi campionesse in carica che hanno interrotto lo scorso anno una serie che aveva visto proprio le salernitane trionfare 4 volte in 5 stagioni fra 2010 e 2014. Con i play-off 2015-2016 si comincia sabato che vinca la migliore.